ciao a tutti amici di vanilla oggi parleremo del tempio di segesta che sembra greco ma è un'antichissima testimonianza degli elimi sta lì la sicilia ricca della sua gloria passata e indifferente ai mille mutamenti che l'hanno attraversata al centro del mediterraneo isola indecifrabile e plurale dove usando le parole di gesualdo bufalino né le cento sicilie tutto è dispari mischiato cangiante come nel più ibrido dei continenti e non potrebbe essere diversamente per i mille popoli che l'hanno abitata per le molte lingue che hanno cantato bellezza e asprezza di questa terra magica dove più che in altri luoghi mito e storia si intrecciano senza poter distinguere dove finisce l'uno e dove inizia l'altra perché il mito luogo di realtà senza tempo qui trova testimonianza concreta in pietre mangiate dal sole e corrose dalla salsedine eppure ancora lì dopo millenni a raccontare storie di fantasia che forse appartengono a realtà troppo lontane e ormai dimenticate chissà quanti millenni fa giunge il greco dedalo a calpestare la terra di sicilia abitata da popoli misteriosi arrivati chissà da dove sicani siculi ed elimi loro gli elimi sbarcano in quella terra arida e luminosa aspra e profumata con ancora in bocca l'amaro sapore del fumo che aveva avvolto la loro città data alle fiamme troia fondano città che hanno nomi come elima erice entella e gesta poi se gesta mentre i sicani arrivati prima di loro devono ritirarsi all'interno nelle rocciose terre lontano dal mare sono i greci tucidide e prutarco a raccontarci questa storia mentre studi più recenti ipotizzano un'origine ligure degli elimi o meglio una mescolanza di popoli autoctoni con genti provenienti dall'egeo e dalla liguria ascoltando solo la voce del mito là su quella colonna possiamo scorgere il giovane re aceste figlio della nobile troiana e gesta e della divinità fluviale crimiso mentre fonda la sua città dopo essere fuggito da troia oppure dando ascolto a virgilio possiamo intravedere enea accolto dal re aceste che fonda se gesta per dar modo agli anziani e alle donne di riposarsi dopo il lungo viaggio che da troia li ha portati fino alle coste della sicilia le donne troppo stanche danno fuoco alle navi ed enea capisce che è arrivato il momento di fermarsi almeno fino a quando il destino non lo porterà verso altri lidi quando avviene tutto questo non lo sappiamo ma pare che al di là del mito la città fosse già abitata intorno al nono secolo avanti cristo certamente lo è e densamente nel quinto secolo avanti cristo quando ormai greci e fenici sono arrivati in sicilia da circa tre secoli i greci hanno occupato la sicilia orientale mentre i fenici si stanziano a sud ovest se gesta è sempre in lotta con le città confinanti in particolare con la colonia greca di selinunte che sconfigge nel 580 avanti cristo nel 415 avanti cristo se gesta è costretta a chiedere l'aiuto di atene per riportare la città nemica aiutata da siracusa a più miti consigli la faccenda non si risolve bene perché gli atenesi subiscono una batosta dai siracusani alla fine l'inimicizia tra selinunte e se gesta si risolve nel 409 avanti cristo quando sono i cartaginesi sempre invocati dai segestani a distruggere la bellissima città greca che seppur abitata fino alla fine del primo secolo avanti cristo non risorgerà mai veramente un centinaio d'anni dopo il tiranno di siracusa la farà pagare a se gesta uccidendo e riducendo in schiavitù molti dei suoi abitanti durante le guerre puniche gli elimi si alleano con roma e le rimarranno per sempre fedeli alla fine la città sarà distrutta dai vandali nel quinto secolo tra vittorie sconfitte devastazioni e rese quello che ancora impressiona di se gesta è il suo tempio grande verrebbe da dire un tempio greco dorico per la precisione anche se così non è o meglio lo stile risponde pienamente a quello ellenico ma l'edificio è stato costruito dagli elimi quel popolo che veniva dall'anatolia e non apprezzava certo i greci il tempio viene costruito negli ultimi 30 anni del quinto secolo avanti cristo quando la città è probabilmente influenzata nell'arte come in altri aspetti della vita sociale dal processo di ellenizzazione dell'isola forse sono addirittura greci delle città confinanti gli operai che costruiscono il tempio e l'architetto che lo ha progettato c'è però qualcosa che storici e archeologi ancora non sanno spiegare la mancanza della copertura e della classica cella interna forse il tempio è rimasto incompiuto a causa delle continue lotte di quegli anni o forse si tratta di un imponente luogo di culto in stile dorico però pensato per riti legati alla religiosità degli elimi lasciato volutamente senza tetto né altare un'altra ipotesi parla di una copertura e di una cella in legno andate quindi perdute nel corso del tempo degli scavi condotti negli anni 80 hanno portato alla luce dei resti di costruzioni precedenti forse quel grande tempio è stato costruito su un luogo sacro già usato per riti religiosi più arcaici il misterioso tempio è ancora lì dopo 2500 anni imponente nelle sue dimensioni che domina i bassi rilievi circostanti dove praticamente quasi nulla è cambiato durante i secoli trascorsi lenti in un'isola dove in alcuni luoghi il tempo pare immobile questo tempio ci parla di una storia antica che ci piace pensare abbia qualcosa a che fare con i tanti miti che lì sono nati se ti è piaciuto il mio racconto e sei appassionato di storia cultura e leggende iscriviti al canale di vanillamagazin